Maggio, mese di Maria Ave Maria Rettura e videografica Padre Tiziano Repetto Francesco circondava di un amore indicibile la madre di Gesù perché aveva reso nostro fratello il Signore della Maestà a suo onore cantava odi particolari innalzava preghiere offriva tante e tali loghi che in lingua umana non potrebbe esprimere la costituita avvocata dell'ordine e pose sotto le sue ali i figli che gli stava per lasciare perché ritrovassero calore e protezione sino alla fine Saluto alla Beata Vergine Ti saluto Signora Santa Regina Santissima Genitrice di Dio Maria Che sei Vergine Perpetua Eletta dal Santissimo Padre del Cielo che ti consacrò con il Santissimo Diletto Figlio e con lo Spirito Paraclito in cui fu ed è ogni pienezza di grazia e ogni bene Ti saluto Sua dimora Ti saluto Sua tabernacolo Ti saluto Sua casa Ti saluto Sua veste Ti saluto Sua ancella Ti saluto Sua madre E saluto voi tutte sante virtù che per grazia e illuminazione dello Spirito Santo venite infuse nel cuore dei fedeli per farli diventare da infedeli fedeli di Dio San Francesco d'Assisi Buona Tregiera Grazie a tutti Grazie a tutti